Ben trovati a un altro incontro a Deferre, io sono Lorenzo Bruni, faccio parte del comitato dei curatori di questa fiera splendida, non soltanto perché è la prima che riapre dopo tanto tempo, dopo la pandemia, ma anche perché le 30 gallerie che sono qui hanno dimostrato un'attenzione straordinaria nella ricerca sull'immagine, sugli artisti che lavorano con l'immagine e sui fotografi che hanno dato un contributo importante a questa riflessione attorno all'immagine. Ora sono con la magnifica Rebecca Russo che è con noi oggi, grazie di essere qui a confrontarti con noi, su che cosa? Su una prima, su una foto di affezione, la foto che lei ha comprato come collezionista, che per lei ha un significato intimo, quindi fuori dalle strategie del mercato, fuori dalle strategie dell'economia, del mercato, ma proprio è legato a una sua affezione personale. Rebecca, sono molto contento che è qui con noi perché non è solo una collezionista, ma anche un attivista, possiamo chiamarla così, perché dal 2010 ha aperto proprio a Torino un centro d'arte che si chiama Video Insight, tutta la collezione è legata a quest'idea dell'immagine, l'attenzione al guardare, l'attenzione allo scoprire che cosa c'è dietro l'immagine, l'esperienza dell'immagine potremmo dire. Ecco, però lascerei la parola adesso a Rebecca, perché sono molto interessato, soprattutto io e non solo il pubblico, immagino, ad avere una sua visione, una visione filosofica che guida da sempre la sua attenzione al collezionismo, all'immagine e poi appunto se ci puoi parlare dell'opera, anzi forse direi di iniziare dall'opera che hai scelto, l'opera di affezione, l'opera che hai scelto, una fotografia di Malpertop e lascia a te la parola. Grazie di cuore per l'invito, l'onore è reciproco. La mia concezione dell'arte è la seguente, l'arte è vita, l'arte da valore alla vita, l'arte trasmette energia, l'arte è profezia, l'arte può essere anche cura, può essere anche una chance, un'occasione per l'evoluzione. Voglio proporvi di guardare insieme due fotografie e appunto in particolare partire da un'opera di Mapplethorpe intitolata Lisa Lion che rappresenta la modella Lisa Lion seduta su uno sgabello, un palo, abbigliata con un outfit leopardato e nella posa, nella postura di guardare l'orizzonte. Perché ho deciso di incorporare questa fotografia che tra l'altro è una fotografia unica, un'edizione di uno, è un unico, nella collezione Video Insight. Perché dal mio punto di vista aggancia tutti facilmente, quindi è un'opera universale, è un'opera senza tempo, perché è un'opera del 1983 ma anche un'opera del 2021 e anche un'opera del futuro. Cioè è una foto che è potenzialmente eterna perché non ha tempo e perché contiene un messaggio che è quello dell'arte. Come deve essere il messaggio dell'arte, secondo me, deve essere primario, riguardare i bisogni fondamentali della vita, deve essere urgente, deve essere necessario, deve aggiungere qualcosa, deve aprire delle porte nella mente, deve stimolare la pancia di chi guarda l'opera, l'inconscio, il cuore, deve stimolare i comportamenti, deve provocare cambiamenti. Io mi assumo la responsabilità di dire che questa fotografia effettivamente agisce in questo senso. Parlo a ragionveduta perché l'ho mostrata centinaia di persone che si sono agganciate, che l'hanno utilizzata per interpretare, per proiettare, per produrre libere associazioni, persone che hanno sognato l'opera, persone che l'hanno ricordata, persone che l'hanno interiorizzata, eccetera. Questo è un po' l'approccio all'arte che possiamo condividere e partire da questa foto. Bellissimo, grazie Rebecca per queste indicazioni e anche come hai descritto l'opera di Malpertop, che è un'opera, una fotografia straordinaria. Da quello che capisco dal tuo suggerimento di come guardare questa fotografia, ci indichi due aspetti importanti. uno appunto il soggetto, la donna che è sicura di sé, è sullo sgabello, non ha timore, però se ho capito ancora meglio, ti interessa perché non guarda in camera, non è l'oggetto del desiderio, ma guarda verso l'orizzonte, cerca, è sicura di sé, ma cerca anche al di là della fotografia, è in ascolto, diciamo. È questa contraddizione o comunque questo abbinamento che ti ha interessato di questa foto e a quel punto ti chiederei di traghettarci anche verso la seconda foto che hai scelto. Proprio così, condivido in pieno, possiamo ancora stare sulla foto precedente, quella di Lisa Lion, condivido in pieno ciò che hai detto. Questa donna è una donna che potrebbe guardare all'orizzonte, guarda lontano e ci fa capire che trova qualcosa lì, lontano, nel futuro, lontano nello spazio, ed è una donna che guarda lontano, ma guarda anche dentro di sé, perché per guardare fuori è importante saper guardare dentro, in profondità, è una donna che anziché su uno sgabello potrebbe essere su un palo, magari l'albero di una barca, di una nave, l'albero quello maestro, e potrebbe essere una donna che ha visto i pericoli, anche una donna che guarda lontano per avvistare il pericolo. Qual è il senso dell'arte? Il senso di avvistare il pericolo anche, perché l'arte spesso è profezia, l'arte anticipa il futuro, coglie il futuro mentre sta per arrivare e Lisa Lion è un'avvistatrice di pericoli, quindi ci fa capire come l'arte può metterci in guardia ed essere un modo per avvistare. Mi piace sottolineare l'abbigliamento leopardato, aggressivo, che ci fa capire che è una donna piena di energia. Mi piace il fatto che sia bella, perché è una donna bella, ma non guarda in camera per farsi fare una foto e soddisfare il proprio narcisismo. Lei si lascia guardare, ma lei guarda altrove e questo è un invito a guardare altrove ed è questo lavoro super attuale, perché in questo momento siamo molto abituati invece a guardarci lo specchio, a farci guardare tanto. Abbiamo tanto bisogno invece di guardare altrove e lontano, più lontano possibile. Questo è bellissimo questo invito, grazie e a questo punto sono molto curioso di sapere invece come dire l'altra visione del perché hai scelto l'altra immagine di Orlan e come ci arriviamo insomma, come ci sia arrivata anche in questa connessione nel metterla assieme. Allora, la fotografia di Lisa Lyon mi ha stimolato un collegamento con un'altra fotografia storica, sempre in bianco e nero, di Orlan, un lavoro del 1966, quindi ho portato due opere del passato proprio per viverne la contemporaneità invece. Allora, in questo secondo lavoro, una donna nuda esce da una cornice. Condivido la mia interpretazione. La vita esce dal quadro dell'arte per poi rientrare, e quindi un'opera che ci fa riflettere sul rapporto arte-vita. Il contenuto esce dalla cornice, quindi cosa significa uscire dalla cornice? Significa nascere, ma anche rinascere. Trovo un'opera attuale in questa fase di post-pandemia. Tutti siamo simulati a ricrearci e a rinascere, quindi lasciare il buio per andare verso la luce, lasciare il noto, per andare verso l'ignoto, il futuro, che però è chance, possibilità. Quindi un'opera che rappresenta la nascita, ma anche, se vogliamo, un'opera che rappresenta l'evoluzione verso la spiritualità, perché potrebbe essere una Santa Chiara, un San Francesco che lascia i vestiti, si denuda, lascia anche i beni materiali per andare verso l'attività. Quindi comunque è un'opera che provoca l'insight, l'intuizione sul tema dell'opera, un'opera che provoca un insight, una intuizione su cosa? Sull'evoluzione, il cambiamento. E il cambiamento è sempre lasciare qualcosa che c'era per andare verso l'ignoto. E la donna che esce dal quadro, dallo schema, dalla fornice che è rassicurante, la zona di comfort, come dire, l'insieme di abitudini, la famiglia di partenza per andare. Quindi questo, Rebecca, è anche un invito molto importante che tu ci fai, a tutti noi, per confrontarci con il futuro, per riuscire anche un po' dai nostri schermi, dalla nostra comfort zone che abbiamo avuto nello stare a casa, insomma, nell'essere in contatto con tutti attraverso gli schermi, ma forse appunto ci suggerisci anche che è importante di nuovo rivederci in presenza. Esattamente. È un'opera che ci stimola al cambiamento, al progresso, ci stimola al superamento della crisi. È un'opera che trasmette fiducia. Ho scelto come donna di portare due lavori di donne, ma tengo a specificare che colleziono opere di donne, opere di uomini, fotografie, pitture, video, sculture, installazioni, perché quel che conta per scegliere un lavoro è il messaggio e la possibilità di afferrare il messaggio. Più l'opera manda un messaggio forte, qualunque sia, più aggancia l'umanità, più mi interessa l'opera, a prescindere dal nome dell'artista, sesso, nazionalità. Perfetto. Questa è un'idea molto importante perché appunto probabilmente vuoi riflettere a tutto tondo su come noi ci confrontiamo con la discussione collettiva, anche con l'immagine. Un'ultima domanda e poi così abbiamo finito. È molto una domanda che richiede anche una risposta molto secca. Quale delle due fotografie è entrata per prima in collezione? Orlani, il lavoro di Orlani è entrato per primo. Perfetto. Ecco. Ti ringrazio molto, spero che questo sia solo un inizio per poi continuare a sviluppare delle riflessioni future e ti ringrazio ancora per essere con noi qua a The Fair, la prima fiera in presenza e speriamo che non sia l'ultima. Io ringrazio voi, invito tutti a partecipare. La fiera è fresca, è stimolante, è una chance per ripartire, ricominciare, come dire, aprire porte nuove con più consapevolezza, più gratitudine e anche, mi viene da dire, con umiltà, perché quella è anche sempre fondamentale. Questo è un ottimo invito, grazie. Per approcciare l'arte. Grazie a voi. Grazie a voi.